Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Taleale, eccoci qui di nuovo con Car Mechanic Simulator 2021, riprendiamo da dove ci siamo lasciati e come sempre vi invito a lasciare like e condividere questi video per supportare serie e canale, insomma fatemi sapere anche nei commenti se vi piacerebbe effettivamente vedere una serie qui sul canale su questo titolo o se volete vedere delle live poi sul secondo canale le ritrovate, insomma. Vediamo un pochino, sta di fatto che al momento avevamo completato il nostro primo ordine, avevamo anche visto un pochino come cambiare i primi pezzi, stiamo un attimino facendo un po' di abilité, un po' di abilité, questa è la roba che abbiamo, ok, 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 allora fatemi vedere un'altra cosa, impostazioni un attimino, volevo vedere i comandi per quanto riguarda deposito rapido, opzione speciale, freno a mano, giochi ordini, ok, lista degli acquisti, vabbè così mi sa che possiamo anche inventare gli ordini, modalità foto, lista degli acquisti, menu opzioni, qui che possiamo vedere, ah il, anche qui possiamo vedere per andare a salvare in automatico, mappa e va bene, questo è quanto, il tablet dobbiamo ancora sbloccarlo, mentre per quanto riguarda le altre cose, ok, ci siamo, va bene, io direi di provare andare a vedere se ci sono altri ordini, allora questo qui problema con i freni avevamo visto, c'è questo che scade tra 40 secondi, il sistema frenante ha bisogno di riparazioni, elenco delle parti 46%, bonus 25% di crediti, facciamo questa qui, accettiamo l'ordine, allora, allora, ecco qui la macchina che ha appunto delle problematiche, in realtà dobbiamo anche vedere un pochino, intanto la spostiamo sul ponte, dobbiamo vedere effettivamente che componentistica abbiamo per poter vedere un attimino quello che manca, stato della vettura, allora, andiamo a vedere quello che sappiamo, pastiglie dei freni, pinza del freno, pompa dell'ABS, ah no, vabbè, comunque ci ha già segnato quello che è da riparare, bonus, non so cosa, forse c'è qualcosa in più, andremo a vedere, allora, tre pinze dei freni e due pastiglie, è più pompa dell'ABS, quindi andiamo un attimino a vedere, pompa del freno, immagino questa qui è la, ok, pompa ABS, modulo ABS, va bene, allora, questo lo possiamo già togliere, il modulo dell'ABS, e quell'altro poi lo, andiamo a riparare, barrare, ricomprare, in realtà, poi pian piano sbloccheremo tante altre cose, pompa dell'ABS, aggiungi alla lista degli acquisti, ok, anzi, fatemi fare una cosa, questi qua li togliamo da qui, perché tanto ormai abbiamo comprato quello necessario, possiamo farlo anche da qui, come mi avevate detto, aggiungi alla lista degli acquisti la pompa dell'ABS, e la togliamo e, vabbè, la andiamo a rimettere subito, prendiamo le parti, lista degli acquisti, pompa ABS, nessun oggetto in questa sezione, dove sta? c'è qualche altro, che ha, elettrone, body, scusa, in teoria dovrebbe stare, ah no, forse qui è vero, giustamente, pompa dell'ABS sta qua, a posto, andiamola a ripiazzare, montiamo, e poi andiamo a cambiare le pastiglie e quant'altro, rimettiamo il modulo dell'ABS, ci rimettiamo questo, tanto, 47% sta una favola, poi andremo anche a livellare, al momento siamo ancora a livello 1, dobbiamo arrivare a 150, per, madonna, 1 di esperienza è praticamente niente, va bene, va bene, chiudiamo il cofano, andiamo ad alzare l'auto, che dobbiamo cambiare un po' di altre cose, e, vai, tira più in alto, certo, pure una sistemata generale ci vorrebbe a sta macchina, non è per dire, ma, insomma, non sta proprio benissimo, in generale, comunque, intanto, quella di prima stava forse anche peggio, eh, possiamo anche dirlo, allora, qui dobbiamo cambiare solamente le pastiglie, eccola qui, pastiglie dei freni, aggiungiamo alla lista degli acquisti, poi andiamo direttamente alla ruota dell'altro lato, ci riesco da qua, perfetto, così ci risparmiamo di uscire dalla visuale, e, come detto, poi avremo modo di migliorare sia la nostra officina che, diciamo, le nostre abilità, quindi, insomma, c'è parecchio, parecchio da fare, qua dobbiamo cambiare anche la pinza del freno, ehm, magari ne aggiungiamo, non so se aggiungendole più di una volta ci segna, qua la pastiglia dei freni ha anche da cambiare, se la rimetto anche questa la aggiungo, vediamo, così magari mi ricordo che sono due, andiamo a questa dove dobbiamo togliere anche qua la pinza mi sa che era da cambiare, poi ricontrolliamo bene quante erano, sì, qua la pinza dei freni vediamo se ci sei neanche quante ne andiamo a cambiare, pastiglie dei freni queste stanno bene, quindi va bene così, andiamo di qua, e qua pastiglie e pinza credo aspetta vai così vabbè questo è un lavoro abbastanza easy effettivamente poi c'è anche l'altro che aveva dei problemi in frenata anche qui i video forse saranno un po' più lunghetti ma ci sta ci sta stiamo facendo tutti i giochi un pochino più lunghi questa sta bene quindi in linea teorica abbiamo segnato due pastiglie dei freni e tre pinze quindi in linea teorica dovrebbe essere giusto quindi andiamo in pastiglie dei freni ne dobbiamo comprare due e pinze dei freni ne dobbiamo comprare tre perfetto andiamo a rimontare il tutto allora montaggio qui c'erano le pastiglie dei freni ci mettiamo quella nuova la pinza 100 100 vabbè ce ne sta una 64 che in realtà non so quale era tra queste ma va bene uguale ecco gli pneumatici in realtà non ho visto se c'è indicato anteriore eccetera magari poteva esserci utile qua ci serve solamente la pinza del freno quindi ci mettiamo questa cerchione classico vediamo cerchione che ha 18 no non mi indica niente oddio ce n'è anche uno che ha 48% quindi non è propriamente il top del top però va bene allora qua andiamo a rimettere la pinza del freno rimettiamoci il cerchione 52% insomma questa è una cambiatina ci sta buon uomo lo tenga in considerazione pastiglie pastiglie pinza bene così cerchione poi sarà una figata anche andare a prendere dei rottami per ricostruire magari dei veicoli insomma poi ci ci attrezzeremo pian piano che ci vuole un po' ok perfetto in linea teorica qui dovremmo aver finito abbiamo fatto tutto concludi ordine a posto ci ha dato mille qualcosina siamo arrivati a livello 2 bene 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 allora allora noi l'altra volta dov'è che abbiamo visto per il computer carrozzeria auto community va bene non so se con il livello 2 abbiamo sbloccato qualcosa in più in linea generale questa è la roba che abbiamo credo che questi possiamo anche andarli a vendere si questi che stanno messi male vendiamo ogni tanto 17% scusa mi fai vedere direttamente tutto qua possiamo c'è una pinza del freno al 28 la cassa che roba è scegli due carte una bonus 10 questo che era non lo so 45 credit ma con quale tristezza vabbè vendi pezzi posso fare così vendi pezzi la cui condizione inferiore uguale a 30% ah così in generale si può fare beh pure questa è una cosa buona e utile allora nella cassetta degli attrezzi possiamo andare a vedere ecco il nostro livellamento che ci costa un punto abilità allora così aumenta la velocità di movimento oppure riparare i pezzi del gruppo 1 aumento della possibilità di riparazione istantanea velocità di avvitamento magari questa velocità di montaggio e smontaggio per esaminare allora in realtà sono indeciso tra la velocità di montaggio e smontaggio e velocità di avvitamento facciamo questa va perfetto poi ci sta velocità di avvitamento mentre qua li sblocchiamo con la moneta ecco in realtà queste qui potrebbero esserci utili tipo aggiunge un caricabatteria al tuo carabello permette di caricare le batterie dell'automobile vabbè questo poi vediamo isolatore battistrada permette di controllare la condizione degli pneumatici questi potrebbero essere utili perché se non sbaglio per i test di compressione tablet vabbè in generale un po' più veloce scanner le tue tenze 1500 misuratore della pressione del carburante facciamo una cosa proviamo ad acquistare questo per la misurazione del carburante controllare i collegamenti elettrici ok e facciamo pure questo perché pian piano questi li andremo ad acquistare un po' tutti facciamo questi tre e poi andiamo a prendere un altro ordine sì tanto è abbastanza presto allora questo qua non ha scadenza al momento quest'altro invece altri compiti non sappiamo cosa salve mi chiamo giovanna mi ha mandato qui il mio vicino il proprietario dell'autosalone mi ha detto che la tua officina è attiva da poco tempo ma che sei un meccanico promettente tra poco dovrò fare la revisione annuale il mio cucciolo mi sembra in buona forma ma preferisco che sia tu a dargli un'occhiata cambia olio i filtri tra bocca i liquidi perché attualmente non ho avuto tempo di controllare dimenticavo il signor john dice che la cinghia di distribuzione fa un rumore strano non so cosa stesse parlando ma forse tu hai già capito di cosa si tratta ok questo forse è un po' più lunghetta come riparazione però proviamo ad accettare credo che queste siano forse quelle tra virgolette principali potrebbe anche essere non era rossa ma era verde sportiveggiante tra l'altro possiamo anche dirlo va bene spostamela e mettila sul ponte adesso vediamo effettivamente di cosa si tratta il lavoro allora stato della vettura vediamo un pochino dobbiamo madonna mia ah pezzo non trovato eh questo è un problema cambia olio cambia liquido dei freni refrigerante allora rabbocca liquido lavavetri questi qua li possiamo fare tranquillamente freni refrigerante servo sterzo e lavavetri allora allora servo freno facciamo così possiamo rabboccare direttamente noi rabbocchiamo fin quando non trabocca tutto tanto qui si può fare tranquillamente senza problemi non ho tolto il vecchio perché penso che possa andar bene anche così vediamo se ce lo da buono cambia liquido no scarica il vecchio c'era scritto scarica il vecchio allora allora utensili e andiamo con utensili di scarico perfetto scusa posso visto che ce l'ho attrezzato posso usarlo direttamente pure per gli altri questo non mi ricordo se lo dovevamo togliere o meno però nel dubbio famo prima togliamoci il pensiero signori diamo una ripulita a tutti i liquidi oh te li metto belli freschi e puliti ora smontaggio vai con liquido refrigerante anche qui fino a quando non trabocca il tutto che ci sta almeno siamo sicuri di aver completato l'obiettivo vai così apposto questo è fatto poi no lo sapevo io sì sì mi scusi togli il tappo e butta tutto ecco forse anche il rabocco e queste cose non so se ci sia il modo per velocizzare la cosa sarebbe il top perché questo forse è quello che ci occupa più tempo questo e vabbè quello degli pneumatici insomma aspetta che non vedo il tappo vai qua togli il tappo rabocca tutto come se non ci fossero domani sì queste qua quindi praticamente quelle che non scadono sono le missioni diciamo principali forse le missioni principali converrebbe farle a parte tra virgolette nel senso in episodi dedicati aspetta riesco a prendere questo perfetto togli il tappo e rabocca e poi controlliamo che altri problemi c'ha sta macchina che in realtà ne ha parecchi alcuni in realtà neanche ce li indica noi adesso dobbiamo capire anche se gli attrezzi che abbiamo utilizzato li possiamo adesso abbiamo 5 di esperienza facciamo una cosa clicchiamo sul motore in generale cioè se io uso questi così tester di compressione cioè lo usa in generale sulla macchina ok vedete quante cose e tra l'altro guardate l'esperienza buono per fare esperienza albero a camme ok allora facciamo una cosa che abbiamo fatto il test compressione facciamo questo qui vediamo se l'esperienza eh questo mi sa che è un buon modo per fare esperienza sì sì assolutamente sì quindi meglio fare tutti i controlli su tutte le auto signori guarda l'accumula esperienza utilissima e poi eventualmente certo ci segna anche quelli le cose problematiche eh mi sa che conviene comprare pure questo scanner e quell'altro o almeno ci accumuliamo un po' di esperienza questo non è male magari ci trova pure le problematiche della macchina che no qui no allora facciamo una cosa guarda io li vado a comprare direttamente adesso la cassetta degli attrezzi prendo pure questo 1500 vabbè ci sta diagnostica di bordo e misuratore battistrada ok e quindi 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 facciamo così buon modo per fare esperienza come detto oltre che per controllare i pezzi eh vedi guarda là ci sono diverse cose che non vanno vabbè le candele già ce l'aveva detto la bombina la bobina di accensione almeno siamo arrivati a 50 di esperienza vai anche con questo in linea teorica dovrebbe segnarci anche quello che ha di problematiche siamo arrivati a 54 di esperienza vediamo se ha trovato quello che mancava no 4 pezzi non trovati allora facciamo una cosa questi li abbiamo fatti facciamo anche il cambio dell'olio per il momento poi cambiamo le cose che ci ha indicato e cos'altro cos'altro converrebbe fare un test su strada forse potrebbe esserci utile potrebbe potrebbe è a posto e aspetta facciamo no facciamo una cosa segniamo tutto quello che dobbiamo riparare che non è poco fastigliate i freni tendicinga hai voglia stai fresco a riparare allora da qua sotto vediamo sta ruota no dovremmo cambiare qui iniziamo a cambiare quello che ci fa vedere poi magari faremo un test su strada e vediamo se ci trova anche le altre problematiche pinza del freno eh vedete comprare il tablet forse ci aiuta qua togliamo le cose che abbiamo segnato prima e pastiglie dei freni segnalo ok e questo è da cambiare poi altra ruota allora allora paradossalmente il gioco è anche discretamente rilassante nel senso anche come detto magari possiamo farci anche degli episodi qui sul canale e magari anche qualche live di intermezzo ci potrebbe anche stare voi nel dubbio comunque seguitemi anche sull'altro sito delle live dove facciamo anche altre cose insomma quindi allora aspetta fatemi ah devo cambiare questa boccola in gomma che mi vado a segnare e iniziamo a vedere anche questo smontaggio questa è fatta andiamo a quella dall'altro lato anche questa è da cambiare quindi segnati anche questa perfetto poi poi da qua sotto cosa vediamo andiamo qua no da qua sotto ci arriviamo scusa braccio della sospita eh no mi sa che da sopra dobbiamo beh tutto sommato allora segnati questa anche quest'altra è da sostituire io me ne segno sempre per non dimenticarmi quante ce ne sono e poi 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 blocco motor no volevo vedere in realtà cos'era il filtro dell'olio vabbè filtro dell'olio eh sbagliato filtro dell'olio oddio sta al 65% in realtà vabbè vabbè aggiungerò la lista degli acquisti e poi le altre cose sono da fare qui sopra giusto linea teorica sì allora quello là è da sostituire qua eh ci vuole un po' perché dobbiamo andare a smontare tutto questo è proprio di sì aspetta prima queste viene dell'accensione le dobbiamo sostituire oddio sai che non mi ricordo una non stava benissimo possiamo anche dirlo signori poi se andrò a sbagliare lo smontaggio di qualcosa per arrivare a determinati pezzi abbiate pazienza ma questo al momento possiamo farlo tanto l'olio ancora non lo rimettiamo quindi dobbiamo sostituire l'albero a cam che vado ad aggiungere per toglierlo devo smontare questo tutti uno e questo è un bel lavoraccio signor qua 2 3 c'è un altro di qua e 4 che c'è manca devo togli prima le candele non lo so credo di no vabbè intanto segna la candela da togliere qual era due mesi che noi dovevamo togliere le candele questa può essere vabbè tu segnala ok poi 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 allora però dobbiamo togliere questo os togliere prima oddio questo in rosso mi dice quello che devo togliere vediamo togliere la cinghia scuse questo per il semplice fatto che dobbiamo no scusa non ho capito adesso allora questo ci segna scusi mi dice che quale cazzo è il problema un attimo perché io ho delle problematiche non sono meccanico non so non si capisce quale poi il gioco richiede effettivamente di di togliere prima di fare qualcosa allora allora da qua va bene riusciamo a capire un pochino quindi eh vedi accessibile dal vano motore allora vedi che sei stronzo dal vano motore non si vedeva niente questa è cattiveria però eh allora da qua si era più accessibile da sotto va bene ok ok adesso possiamo togliere questo eh si questi lavori principali mi sa che conviene farli allora cinghia la dobbiamo sostituire magari prima togliendo questo pendi cinghia ti sostituisco pure questo direi che ti devo la cinghia l'abbiamo aggiunta sì anche questo direi di sostituirlo ok questo qua si eh vedi c'era questo da smontare a un certo punto c'eravamo arrivati ma dai mi mi zoom un attimo più indietro per piacere se stiamo e qua smontiamo tutto poi sicuramente come i mobili dell'ikea ci avanzeranno dei pezzi però allora a posto ce l'abbiamo fatta signori ce l'abbiamo fatta e quindi 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 mi sa che possiamo andare ad acquistare tutto quello che abbiamo smontato ok onesto allora allora apri lista degli acquisti pastiglie dei freni due boccole quattro filtro dell'olio uno albero a camme uno candela non sta qua andiamo andiamo direttamente candela 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 e oddio quante due poi ricontrollo le candele effettivamente se sono due candela cinghia a serpentina tendi cinghia rullo 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 granaggio albero a camme ok adesso ci abbiamo tutto quello che dobbiamo sostituire però fatemi vedere una cosa perché candele si erano due effettivamente quindi vabbè pian piano signori comunque il verde sportiveggiate ci sta magari una deve dargli una mezza ripitturatina perché insomma non è proprio al top comunque vabbè riprendiamo da qui andiamo con il montaggio pezzi e ripartiamo da albero a camme piano piano rifamo tutto poi rimetti questo coperchione a vita a posto poi dall'altro lato zoom indietro non puoi sì che puoi ok bullonata bullino quanti ne ho tolti vabbè piano piano di cinghia nuovissimo copertura ma i rulli mi sa che ce ne abbiamo noi a caso in più non sbaglio ok allora cinghia serpentina b rullo ah ok era questo e siamo a posto qua no in linea teorica sì poi rimettiamo qua il filtro è da sotto vabbè rimontiamo qua sopra rimetti candela 1 candela 2 rimetti questi un pochino se ci ricordiamo tutti i pezzi in realtà nell'inventario converrebbe tenere solo le cose dell'ordine in corso per il semplice fatto che poi vai a ricontrollare per vedere stai rimesso tutti i pezzi no come i mobili dell'iket rimangono dei pezzi in mano che non sai se erano di questa macchina se erano di qualche altra macchina se ci avanzano insomma è tutto un po' così allora questa stava oddio una bobina mi sa che non stava neanche al top però fai una cosa bobina 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 d'accensione una la dovevo cambiare e mi sa che non l'ho cambiata non l'ho comprata no e allora aspetta inventario guarda me la segno direttamente da qua invece di cercarla si non trovo manco qua eccola qua c'è aggiungi vabbè le boccole poi le mettiamo allora dovrebbe stare sempre qui fino ad accensione ok se mi ricordavo che ce n'era una che avevamo tolto che non stava benissimo ricordiamoci di mettere sempre il montaggio e non lo smontaggio perfetto allora in linea teorica qui abbiamo terminato possiamo alzare l'auto e poi si rimettiamo l'olio passiamo la cittro spezione quindi ripartiamo da qua sotto e rimettiamo se riesco a cliccarci qua ok no questo mi devi mettere d'acqua scusa filtro dell'olio poi cerchiamo di arrivare alle boccole e dai se no così è problematico è una sperando di non dimenticarci niente poi c'è il cambio dell'olio usciamo da qua facciamo questo pastiglie dei freni avevamo ricomprate poi dobbiamo solamente fare il test su strada magari per vedere effettivamente cosa non andava il test su strada non so se conviene farlo all'inizio perché poi magari ti trovi un'altra volta a rismontare la macchina e potevi farlo prima muo vediamo effettivamente perché non non so quale se convene farlo all'inizio magari ci sono tanti problemi e non ti fanno capire quale quelle quattro parti mancanti stili aspetta se mi ci avvicini è un po meglio pure pinzate il freno vai con lo pneumatico cioè questa doveva andare a fare revisione la si ha fatto cambiare 2-3 mila dollari di roba ok in linea teorica abbiamo rimontato tutto fammi vedere si dobbiamo solo mettere oddio il filtro dell'olio vabbè lo voleva cambiare ce l'aveva detto ma non era neanche così necessario andiamo a rimettere adesso l'olio no c'è va il c'è l'olio butta giù butta giù vai vai in sicurezza in sicurezza vai vai in tranquillità ole un attimo a posto quindi 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 in linea teorica in linea teorica noi adesso andiamo a vedere che abbiamo fatto tutte queste tranne quello che manca qua abbiamo cambiato qua pure quindi mancano quattro pezzi che dice pezzi non trovati non sappiamo qual è il motivo perché comunque noi a livello di cose da controllare abbiamo tutto il tablet questo qua per saldatrice ma non ci serve più di tanto possiamo andarla a testare sposta l'auto parcheggio come si fa percorso di prova usa la cassetta degli utenti ah non ce l'abbiamo nel percorso di prova che sta qua porco due e allora non signori piccolo appunto piccolo appunto che sto aggiungendo perché adesso girando qui mi è venuta in mente una cosa probabilmente ho sbagliato nel mentre nel mentre io ho tenuto questa macchina qui fuori e ho registrato un altro episodio quindi se nel prossimo episodio vedete che parlo di problemi nell'auto test varie ed eventuali è perché questa parte la sto registrando dopo dopo perché girando qui effettivamente mi sono ricordato una cosa della mappa perché noi qui pensavamo che per poter migliorare questa cosa magari me l'avete detto anche voi poi nei commenti va bene comunque me lo direte nello stato della vettura ci sono alcune cose che non sappiamo come fare e io immaginavo che per poterla spostare doveva andare nel percorso di prova e quindi ci servivano i soldi eccetera eccetera ma in realtà qui nella mappa della città la pista di prova già me l'ha da sbloccata quindi se io qua non ci siamo ancora mandati ma se andiamo nella pista di prova scegli l'auto non ci serve non so cosa sia quell'altro allora e abbiate pazienza anche se nel prossimo episodio posso cambiare visual no attenzione madonna che stile se nel prossimo episodio ci sarà ancora questa lì fuori però l'ho già registrato me ne sono accorto alla fine dell'altro episodio ok lo slalom l'abbiamo fatto test accelerazione test delle sospenze ammazza se cammina aspetta test di frenata ok vediamo se si è accorto delle problematiche quindi dobbiamo fare così vabbè niente c'è un altro episodio extra eventualmente probabilmente non lo so perché poi vediamo può essere pure che non ve lo posto e facciamo altro tanto non avevo fatto niente di che un po' di lavori così comunque qualcosa ce l'ha trovato sì disco dei freni pastiglie pastiglie e disco dei freni probabilmente è quello no vediamo un po' vediamo un po' disco dei freni disco dei freni e pastiglie pastiglie e disco dei freni ok allora intanto fatemi togliere questi che erano di altri lavori e tiriamo su il macinino tiriamo su il macinino nel mentre ah nel mentre se qualora non vi facessi vedere il prossimo episodio siamo arrivati a livello 3 e ho sbloccato lo sconto lo sconto in negozio come è giusto che sia allora apriamo no che cofano scusi ho sbagliato abbia frede immagino che a parte alzarla un po' di più sarebbe cosa buona e giusta comunque cammina la macchina bella sportiveggianza togliamo questo facciamo questo cambio almeno finiamo pure questa qui ok e pinza del freno questa va bene pastiglia dei freni è qua si vabbè tutte e due le dobbiamo cambiare se le pastiglie dei freni e il disco del freno ventilato andiamo di là facciamo anche questa e almeno ci completiamo questa qui che sono quelle della storia un po' più importanti come lavori che ci stanno un po' più lunghetti anche però va bene ci sta vai con la pastiglia vai con il freno ventilato e andiamo ad acquistare questi pezzi poi ci prendiamo anche il tablet così senza che andiamo al computer che fanno prima pastiglie dei freni due freni ventilato comunque questa è una grandissima svolta questa di poter andare a aggiungere i pezzi che abbiamo smontato è veramente una grandissima svolta rispetto al 2018 a car meccanica 2018 dove invece li dovevi praticamente segnare perché se no non li ritrovavi mai nella vita questo invece di pino ok andiamo all'altro lo becchiamo da qua più o meno ok perfetto dai che ce l'abbiamo signori vi riconsegniamo questa mini che comunque va che comunque va l'abbiamo provata nel circuito di prova e io pensavo fosse quello da upgradeare invece no quindi ce l'abbiamo abbiamo fatto tutto posto così bene quanto ci da 2002 a posto a posto ok adesso effettivamente ci possiamo salutare va bene ragazzuoli ci vediamo alla prossima seguitemi anche sull'altro sito delle live dove faremo live anche su questo titolo per i compiti tra l'uno e l'altro magari di quelle della storia ci vediamo alla prossima ragazzi saluto a tutti da questa leale grazie a tutti Grazie per la visione!